Mi sono innamorato di questo lavoro perché amavo seguire mio padre nei cantieri vedendo la passione che portava nel suo lavoro. Mi piacevano e mi piacciono tuttora i macchinari per fare questi lavori e vedere come da un prato grezzo magari con erbace si possa con un po' d'amore e passione trasformare in un ambiente che può dare pace e serenità alle persone. Adoro la tecnologia e ne sono stato entusiasta quando finalmente è arrivata anche in questo settore. Mi entusiasma a poter controllare i consumi, l'opinità del terreno, la sua temperatura ed il meteo per massimizzare il beneficio riducendo gli sprechi idrici analizzare vecchi impianti per poterli aggiornare e rivitalizzare. Grazie alla crescita in questo settore per oltre 30 anni molte delle mie passioni acquatiche come il surf, il kite surf e la subacquea sono cresciute insieme per rimanere sempre a contatto con l'acqua che oggi è il bene più prezioso che ci sia. Seguici per non perdere le novità del settore.